Presidente Renzi che non c'è, che non c'è mai in questo Parlamento, che non c'è nei luoghi dell'Italia in cui si soffre, che non è andato a Genova, signor Presidente del Consiglio, che non è andato in Emilia, che va solo dove ci sono gli applausi e che non viene in Parlamento, che non viene in Parlamento nel momento in cui si approva o si dovrebbe approvare la legge più importante della legislatura, la legge di stabilità. E questo la dice lunga, signor Presidente del Consiglio, che non c'è sul suo rispetto verso le istituzioni.